Oh, regà, ultimo tentativo, provammo a andare avanti anche questa, poi abbiamo esaurito i tentativi per oggi. Speriamo di beccare quella che ci piace. No, anche questa volta ne uscita un'altra. Che pizza sto Spotify, non escono mai le canzoni che uno vorrebbe sentire, ma proprio stufato. Dipende da quante canzoni ci sono nella playlist e da quante sono quelle che vuoi ascoltare. In base al loro rapporto puoi calcolare la percezione... Ferrari, abbasta con sti calcoli, sempre a pensare alla mate, anche durante la ricreazione. Buongiorno ragazzi, che succede? Cosa sono queste facce tristi? Prof, abbiamo passato tutta la ricreazione a cercare di beccare le nostre canzoni preferite su Spotify, ma le scegli a caso dalla playlist e non portano mai quelle che vogliamo. E poi Ferrari ha cominciato a parlare di mate e di perce qualcosa, ma che ne so io. Ah, e mi pare di aver capito qual è il problema. In realtà Moretti, quello che probabilmente voleva dirvi Ferrari vi sarebbe potuto proprio essere d'aiuto. E guarda caso, è proprio il nuovo argomento di oggi. Le percentuali, prof. Finalmente, era da tempo che aspettavo questo argomento. Esatto! Introduciamo questo nuovo argomento e poi vedrete qualche utile esempio. Le percentuali sono delle frazioni che hanno sempre al denominatore il numero 100. Al numeratore, invece, possono avere qualsiasi numero intero o decimale, sia minore che maggiore di 100. Di solito, per rappresentarle in maniera più compatta, si fa seguire il numero che si trova al numeratore da questo simbolo, che si legge per 100. Quindi, vedete alla lavagna la frazione 45 fratto 100, in realtà si può leggere come 45% e così anche le altre. Le riconosco, prof. Sono quelle che ci indicano quanto sconto c'è sui libri durante le promozioni su Amazon. Sì, sono proprio quelle, Giovanna. Per iniziare, cerchiamo di capire cosa rappresentano. Per prima cosa, le percentuali vanno sempre applicate a qualcosa. Il 50% delle pagine di un libro, il 25% degli alunni di una scuola e così via. Quando si applica la percentuale, si fa un ragionamento astratto in cui il numero 100 al denominatore sta ad indicare la quantità totale, che siano tutte le pagine del libro o tutti gli studenti della scuola per usare gli stessi esempi. Il numeratore ci indica, invece, quale parte di questo totale vogliamo prendere in considerazione. Vediamo due esempi per capire meglio come applicarle. Abbiamo ad esempio un libro di 340 pagine e vogliamo sapere quante sono le pagine del suo 50%. In questo caso, quando conosciamo il totale e la percentuale, per calcolare la nostra incognita ci basta moltiplicare il numero totale per la frazione rappresentata dalla percentuale stessa. Quindi in questo caso avremo 340 per 50 diviso 100, che dà come risultato 170. Prof, 170 è proprio la metà di 340! Giusto! E non è una coincidenza, perché se riportate la frazione che rappresenta la percentuale ai minimi termini semplificandola, otterrete proprio un mezzo, che è proprio la frazione che rappresenta la metà. Quindi, applicandola al numero di pagine totali, ne otterrete proprio la metà. Vediamo ora come utilizzare le percentuali per il procedimento inverso, cioè conoscendo la parte che ci interessa e il totale, come ricavare la percentuale. Vediamo un esempio. In una scuola ci sono 600 alunni. Lo scorso anno 150 di loro hanno avuto il debito in matematica. Qual è la percentuale di studenti con il debito? Per calcolarla, prendiamo la parte che ci interessa, i 150 studenti col debito. Dividiamola per il totale degli studenti e moltiplichiamo il tutto per 100, aggiungendo il simbolo di percentuale. 150 diviso 100 fa 0,25, che moltiplicato per 100 fa 25. Quindi gli studenti con il debito a matematica sono il 25% del totale. Prof, tutto sto parlando di debiti non mi piace e non mi aiuta nemmeno a capire come trovare le mie canzoni preferite. Tu studia e vedrai che non avrai nulla di cui preoccuparti. Per tornare al tuo problema, guarda questo esempio alla lavagna. Questa tabella rappresenta una playlist di 40 canzoni divise per genere e lingua. Ad esempio ci sono 4 canzoni rap in italiano, perché 4 è il numero che si ottiene incrociando la colonna del rap con la riga dell'italiano. Chiaro? Chiarissimo, prof! Per sapere le varie percentuali di tipi di canzoni, una volta scelto quello che ci interessa, dovremmo dividerlo per il totale, calcolando la percentuale come visto nel secondo esempio di oggi. Prendiamo il caso di voler sapere quant'è la percentuale di canzoni in inglese presenti nella playlist. Per farlo sommiamo tra loro tutte le canzoni della riga inglese, perché queste rappresentano la parte che ci interessa, quindi 12 più 4 più 4 che uguale 20. Dividiamo per 40, che è il totale delle canzoni, e moltiplichiamo per 100%. Dalla frazione otteniamo 0,50, che moltiplicato per 100% ci dà la percentuale cercata. Le canzoni in inglese sono il 50% del totale, più il valore della percentuale è alto, e più sarà probabile che quel tipo di canzone venga riprodotta. Vogliamo ora sapere quale genere tra il rock e il rap è più probabile che venga riprodotto. Per farlo dobbiamo calcolare le due percentuali e confrontarle. Partiamo dalle canzoni rock, che sono 12 più 6 più 4 uguale 22. Dividiamo per 40, ottenendo 0,55, e moltiplichiamo per 100% ottenendo 55%. Quelle rapp invece sono 4 più 4 più 6 uguale 14. Dividiamolo per 40 e otteniamo 0,35, che ci dà come risultato il 35%. La parte con la percentuale maggiore sarà più facile che venga riprodotta. In questo caso, le canzoni rock sono una percentuale maggiore di quelle rap nella nostra playlist. Chiaro? Quindi, come stavo cercando di dirvi prima, per aumentare la possibilità di ascoltare le vostre canzoni preferite, dovete scegliere una playlist che ne contenga una percentuale maggiore rispetto a tutte le altre canzoni. Grazie. Grazie.